Un omara in piedi, un ponte ferroviario del nord dell'Alabama, riguardava l'acqua che correva veloce sei metri più in basso. Aveva le mani dietro la schiena, i polsi ricati con una corda. Una fune gli stringeva il collo. Era attaccata a una solida trave sopra la testa, mentre la parte allentata gli scendeva fino alle ginocchia. Alcune assi, posate sulle traversine che sostenevano i binari della ferrovia, fornivano un punto d'appoggio a lui e ai suoi carnefici, due soldati semplici dell'esercito federale comandati da un sergente che da civile avrebbe potuto fare il vice sceriffo. A breve distanza, sulla stessa piattaforma provvisoria, c'era un ufficiale, armato, con addosso l'uniforme propria del suo rango. Era un capitano. A ogni estremità del ponte era stata collocata una sentinella con il fucile in posizione di tiro, cioè in verticale davanti alla spalla sinistra, con il cane appoggiato sull'avambraccio perpendicolare al torace, posizione assai naturale e formale che imponeva una postura eretta del corpo. Sembrava che questi due uomini non spettassi di sapere che cosa stava accadendo al centro del ponte. Si limitavano a bloccare l'accesso alle due estremità dell'assito che la attraversava. Non si vedeva nessuno al di là di una delle sentinelle. La ferrovia si inoltrava per un centinaio di metri nella foresta, poi, dopo aver descritto una curva, si perdeva di vista. Senza dubbio doveva esserci un avamposto più avanti. L'arrivo apposta del fiume si estendeva una radura. Un lieve pendio sormontato da una staccionata di tronchi d'albero verticali, munita di feritoie per i fucili, con un'antica cannoniera dalla quale sporgevo la volata di un cannone d'ottone puntata verso il ponte. Su pendio, a metà strada tra il ponte e il fortino, c'erano gli spettatori. Una compagnia di fanti schierati, a riposo, con il calcio del fucile posato a terra, la canna leggermente inclinata all'indietro contro la spalla destra e le mani incrociate sulla cassa. A destra dello schieramento stava un tenente, con la punta della spada che toccava a terra e la mano sinistra appoggiata sulla destra. Fatta eccezione per i quattro uomini al centro del ponte, non si muoveva nessuno. La compagnia era girata verso il ponte, con lo sguardo impietrito e immobile. Le sentinelle, rivolte verso la riva del fiume, avrebbero potuto essere statue che adornavano il ponte. Il capitano stava a brazza concerte, in silenzio, che osservava l'opera dei suoi subordinati senza fare alcun cenno. La morte è un dignitario che quando arriva dopo essere stato annunciato deve essere ricevuto con manifestazioni formali di ossequio perfino da quelli che lo conoscono meglio. Nel codice dell'etichetta militare il silenzio e l'immobilità sono forme di rispetto. L'uomo, sul punto di essere impiccato, aveva all'incirca 35 anni. Per giudicare degli indumenti, che erano quelli di un piantatore, doveva essere un civile. Aveva dei bei lineamenti, il naso dritto, la bocca ben disegnata e la fronte spaziosa, dalla quale i lunghi capelli neri si dipartivano all'indietro, ricadendo dietro le orecchie sul colletto della redlingote e che gli andava a pennello. Aveva i baffi e il pizzetto, ma non i favoriti. Aveva gli occhi grandi e di un colore grigio scuro e un'espressione gentile, che non ci si sarebbe mai aspettati da un uomo con il cappio al collo. Evidentemente, non si trattava di un volgare assassino. Il codice militare, essendo liberale, prevede l'impiccagione per diversi tipi di persone, gentiluomini inclusi. Dopo aver completato i preparativi, i due soldati semplici si fecero da parte e tolcero l'asse sulla quale avevano stazionato in precedenza. Il saggente si volse al capitano, fece il saluto militare e si piazzò appena dietro l'ufficiale che a sua volta si discostò di un passo. In seguito a questi spostamenti, il condannato e il saggente si trovarono all'estremità della stessa asse che copriva tre traversine del ponte. L'estremità sulla quale si trovava il civile raggiungeva quasi una quarta traversina. Quest'asse era stata tenuta ferma prima dal peso del capitano, ora da quello del saggente. A un segnale del primo il secondo si sarebbe fatto da parte, l'asse si sarebbe inclinata e il condannato sarebbe sprofondato tra le due traversine. A parere di quest'ultimo, il piano brillava per semplicità ed efficacia. Non gli avevano né coperto il viso né bendato gli occhi. Per un istante contemplò il suo punto d'appoggio malfermo, poi lasciò correre lo sguardo sulle acque vorticose del fiume che gli scorriva impetuoso sotto i piedi. La sua attenzione venne attratta da un relitto di legno alla deriva che seguì con lo sguardo lungo la corrente. Come sembrava muoversi lentamente. Che fiume pigro! L'uomo chiuse gli occhi per dedicare gli ultimi pensieri alla moglie e ai figli. L'acqua dorata dai riflessi dorati del primo sole, la foschia che alleggiava sulle rive in lontananza lungo il corso del fiume, il fortino e soldati, il relitto di legno. Tutto lo distraeva. E ora avvertì una nuova fonte di disturbo. Il pensiero dei suoi cari venne interrotto da un suono che non riuscì a ignorare né ad identificare. Si trattava di una forte e distinta percussione metallica simile al battito del martello di un fabbro su un'incudine e condivideva le note squillanti. Si domandò cosa fosse e se si trovasse a una distanza incommensurabile o lì vicino. Sembrava entrambe le cose. Aveva un ritmo regolare ma lento come i rintocchi di una campana morto. Lui aspettava ogni rintocco con impazienza e senza sapere perché con apprensione. Gli intervalli di silenzio divennero sempre più lunghi. I ritardi lo facevano impazzire. Nonostante la minore frequenza i suoni aumentarono di intensità e di nitidezza. Gli ferirono le orecchie come i colpi di un coltello. Temeva di mettersi ad urlare. Quello che udiva era il ticchettio del suo orologio. Aprì gli occhi e vide di nuovo l'acqua sotto i piedi. Se riuscissi a liberarmi le mani pensò potrei togliermi il cappio e buttarmi nel fiume. Tuffandomi potrei schivare i proiettili e nuotando di buona lena potrei raggiungere la riva inoltrarmi nella foresta e dirigermi verso casa. Finora la mia casa grazie a Dio si trova all'esterno delle loro linee. Mia moglie e i miei figli sono ancora lontani dall'avanzata degli invasori. Mentre questi pensieri che qui devono essere riportati a parole balenavano nel cervello del condannato piuttosto che svilupparsi razionalmente in esso il capitano fece un cenno al saggente il saggente si fece da parte. Peyton Fairquare era un piantatore agiato di un'antica e assai rispettata famiglia dell'Alabama in quanto proprietario di schiavi e come gli altri proprietari di schiavi impegnato in politica era un secessionista nato ardentemente devoto alla causa del sud. Circostanze di natura urgente che non è necessario riferire qui che avevano impedito di arruolarsi nel valoroso esercito che aveva combattuto le disastrose campagne terminate con la caduta di Corinth e si lavorava nell'ingloriosa impossibilità ad agire desiderando ardentemente da sfogo le proprie energie. vivere la vita movimentata del soldato e avere l'opportunità di distinguersi. Quell'opportunità lo sentiva si sarebbe presentata come si presenta a chiunque in tempo di guerra. Nel frattempo faceva quel che poteva. Nessun servizio era troppo umile da assolvere per aiutare il sud. Nessuna avventura troppo pericolosa a viversi se in armonia con il carattere di un civile dal cuore di soldato e che in buona fede e senza troppe riserve mentali concordava almeno in parte con la massima davvero scellerata che tutto è lecito in amore e in guerra. Una sera mentre Ferquer e la moglie erano seduti in una rossa panca vicino all'ingresso della loro proprietà un soldato vestito di grigio arrivò cavalcando al loro cancello e chiese un sorso d'acqua. La signora Ferquer fu quanto mai felice di servirlo con le sue diafane mani. Mentre andava a prendere l'acqua il marito si avvicinò al cavaliere impolverato e chiese avidamente notizia dal fronte. Gli Yankee stanno riparando la ferrovia disse l'uomo e si preparano a un'altra avanzata. Sono arrivato al ponte Hout Creek lo hanno sistemato e hanno costruito una palizzata sulla riva nord. Il comandante ha emesso un'ordinanza che ha fesso ovunque in cui dichiara che qualunque civile si è sorpreso a danneggiare la ferrovia compresi i ponti gallerie o treni verrà impiccato con giudizio sommario. Ho visto personalmente l'ordinanza. Quanto dista il ponte Hout Creek domandò Ferquer? Circa 30 miglia. Ci sono soldati da questa parte del fiume? Solo una pattuglia di picchetto a 800 metri più in là sulla ferrovia e una sola sentinella da questa parte del ponte. Supponete che un uomo un civile desideroso di fare esperienza di un'impiccagione eluda la pattuglia di picchetto e magari abbia la meglio sulla sentinella disse Hout Creek con un sorriso. Che cosa potrebbe fare? Il soldato riflette. Ci sono stato un mese fa rispose. Ho notato che la piena dell'inverno scorso ha depositato contro il pilone di legno da questa parte del ponte una gran quantità di legna galleggiante. Adesso è secca e brucierebbe come stoppa. La signora aveva portato l'acqua e il soldato ne beve. La ringraziò cerimoniosamente, fece un inchino al marito e cavalcò via. Un'ora dopo il tramonto riattraversò la piantagione puntando a nord nella direzione dalla quale era venuto. Era un esploratore federale. Quando Peyton Fairquare piombò in basso in mezzo al ponte perse coscienza e fu già come morto. A risvegliarlo da quello stato secoli dopo gli parte fu il dolore di una forte pressione alla gola seguito da un senso di soffocamento. Acuti e cocenti parossismi d'agonia sembravano sfrecciargli dal collo per ogni fibra del corpo e delle membre. Era come se i dolori settassero alla velocità del lampo lungo linee di ramificazione ben definite e pulsassero a intervalli di una rapidità inconcepibile. Erano come correnti di fuoco vibrante che lo riscaldavano a una temperatura insopportabile. L'unica sensazione che provava in testa era quella di pienezza di congestione. Le sensazioni non erano accompagnate da pensieri. La parte intellettiva della sua natura si era già cancellata. Poteva solo sentire e sentire era un tormento. Aveva coscienza del movimento. Avvolto da una nube luminosa di cui egli era soltanto il centro rovente privo di sostanza materiale percorreva archi d'oscillazioni impensabili come un enorme pendolo. Poi d'improvviso con tremenda subitanità la luce che lo circondava frecciò verso l'alto con un tonfo fragoroso. Ebbe negli orecchi un rombo spaventoso e tutto fu freddo e buio. Era di nuovo in grado di pensare. Sapeva che la corda si era spezzata e che era caduto nel fiume. La sensazione di strangolamento non peggiorò. Il cappio intorno al collo lo stava già soffocando e impediva all'acqua di entrargli nei polmoni. morire impiccato in fondo a un fiume. L'idea gli parve ridicola. Aprì gli occhi nell'oscurità e vide sopra di sé un bagliore di luce. Ma com'era distante com'era inaccessibile. Stava ancora sprofondando perché la luce si fece sempre più fioca finché fu solo un baluginio. Poi prese a crescere d'ampiezza e d'intensità ed egli si rese conto che stava risalendo in superficie con riluttanza perché adesso si sentiva a proprio agio. Finire impiccato e affogato pensò. Non è poi così male ma non voglio che mi sparino. No, non lascerò che mi sparino. Non è giusto. Non aveva coscienza di alcuno sforzo ma una trafittura al polso lo informò che stava cercando di liberare le mani. rivolse l'attenzione a quel di vincolarsi come nozioso che osservi le imprese di un prestigiatore senza nutrire alcun interesse nel risultato. Che sforzo eccezionale! Che forza straordinaria! Sovrumana! Quello sì era un bel cimento! Complimenti! La corda si sciolse le braccia si divisero e fluttuarono a galla le mani appena visibili da una parte e dall'altra nella luce crescente. si fissò con genuino interesse mentre prima una poi l'altra si avventavano sul cappio che gli stringeva il collo. Lo strapparono e lo scagliarono ferocemente da una parte e quello onveggiò come un serpente d'acqua. Rimettetelo! Rimettetelo! Pensò di aver gridato alle mani perché dopo lo scioglimento del cappio si erano susseguite le fitte più atroci che avesse mai provato in vita sua. Il collo gli doleva orribilmente aveva la testa in fiamme il cuore di cui i battiti si erano fatti deboli chiede un balzo e sembrò uscirgli dalla gola. Tutto il corpo era torturato e straziato da un dolore insopportabile ma le mani disobbedienti non prestarono attenzione all'ordine battevano l'acqua vigorosamente con rapidi colpi verso il basso spingendolo in superficie. Sentì la testa emergere gli occhi furono accecati dalla luce del sole il petto si allargò tra le convulsioni e un dolore supremo finale i polmoni inghiottirono una gran boccata d'aria che li espulse all'istante con un grido. Adesso era in pieno possesso dei sensi fisici a dire il vero erano straordinariamente attenti e vigili. Qualcosa nel subbuglio spaventoso subito dal suo organismo li aveva esaltati ed acuiti ed essi registravano avvenimenti mai percepiti in precedenza. Sentì le increspature d'acqua sul suo volto e udì il suono di ciascuna di esse quando lo colpivano. Guardò la foresta sulla riva del fiume vide ogni singolo albero le foglie e le venature su ciascuna di esse vide gli insetti sulle foglie vide le locuste le mosche dal corpo iridescente i ragni grigi che tessevano le tele tra un ramoscello e l'altro notò i colori dello spettro in ogni goccia di rugiada su un milione di fili d'erba il ronzio dei culici che danzavano sui gorghi del fiume il battito d'ali delle libellule i colpi inferti dalle zampe dei ragni d'acqua simili ai remi che sollevano una barca tutto emanava una musica percepibile un pesce ci volò via sotto i suoi occhi ed egli udì l'impeto del suo corpo mentre fendeva le acque era affiorato in superficie col volto in direzione della corrente in un attimo il mondo visibile sembra ruotare lentamente facendo perno su di lui ed egli vide il ponte il forte i soldati sul ponte il capitano il serzente i due soldati semplici suoi carnefici erano profili contro il cielo azzurro gridavano e gesticolavano indicandolo il capitano aveva estratto la pistola ma non fece fuoco gli altri erano disarmati i loro movimenti erano grotteschi e orribili le loro forme gigantesche all'improvviso udì una forte detonazione e qualcosa colpì velocemente l'acqua a pochi centimetri dal suo corpo spruzzandogli il viso udì una seconda detonazione e vide una delle sentinelle col fucile imbracciato e una nuve di fumo azzurronnolo che usciva dall'imboccatura l'uomo in acqua colse l'occhio dell'uomo sul ponte fissare il suo attraverso il mirino del fucile vide che era un occhio grigio e ricordò di aver letto che gli occhi grigi sono quelli dalla vista più acuta e che tutti i tiratori famosi li hanno però quello aveva sbagliato il colpo un molinello contrario aveva afferrato Ferker facendo il compiere un mezzo giro ora guardava di nuovo la foresta sulla riva opposta del forte il suono di una voce chiara acuta risuonò in una monotola cantilena alle sue spalle e lo raggiunse sull'acqua con una nitidezza che perforò e attenuò ogni altro suono persino l'incresparsi dell'acqua nelle orecchie benché non fosse un soldato aveva frequentato a sufficienza gli accampamenti da conoscere il significato terribile di quella lenta strascicata aspirata salmodia il tenente sulla riva stava prendendo parte alle operazioni del mattino con quanta gelida spietatezza con che intonazione calma e uniforme che pronunciava imponeva tranquillità agli uomini con quali intervalli accuratamente misurati venivano pronunciate le crudeli parole compagnia attenti imbracciattarm pronti puntate fuoco perché si immerse si immerse quanto più potè l'acqua gli ruggì nelle orecchie come la voce del niagara eppure udì il rombo attutito della scarica risalendo in superficie si imbattì in frammenti di metallo curiosamente appiattiti che scendevano in lente oscillazioni certi gli sfiorarono le mani e il volto poi scivolarono via e guidando a scendere uno gli si infilò tra il colletto e il collo era fastidiosamente caldo ed egli se lo strappò di dosso appena risalito in superficie boccheggiante per la mancanza d'aria si accorse di essere stato a lungo sott'acqua si trovava sensibilmente più a valle vicino alla salvezza i soldati avevano quasi finito di ricaricare le bacchette di metallo lampeggiarono d'improvviso al sole mentre venivano estratte dalle canne fatte ruotare in aria e ricacciate negli incavi le due sentinelle fecero nuovamente fuoco autonomamente senza esito l'uomo braccato vide tutto questo al di sopra della spalla ora nuotava energicamente col favore della corrente il cervello era pieno d'energia come le braccia e le gambe pensava con la rapidità del fulmine l'ufficiale ragionò non ripeterà l'errore di rispettare rigidamente la procedura una scarica è facile da schivare quanto un colpo solo probabilmente ha già dato l'ordine di sparare a volontà che dio mi aiuti non posso schivarli tutti un tonfo spaventoso a due metri di distanza fu seguito da un suono forte e fragoroso un diminuendo che sembrò ripercorrere ritroso il cammino in direzione del forte e si spense con un'esplosione che agitò le acque del fiume da capo a fondo una massa d'acqua si incurvò sopra di lui gli cade addosso lo accecò lo strangolò il cannone aveva preso parte al gioco mentre scuoteva la testa per liberarsi dalle acque agitate dal colpo udì deviare e ronzare in aria più avanti e un attimo dopo spaccare e frantumare i rami della foresta non lo riferanno pensò la prossima volta useranno una scarica di mitraglia devo tener d'occhio il cannone il fumo mi avviserà la detonazione arriva troppo tardi si sente quando il proiettile è già partito quello è un buon cannone improvvisamente si sentì risucchiare e girò su se stesso come una trottola l'acqua le rive le foreste il ponte oralontano il forte e gli uomini tutto si mischiava e si confondeva gli oggetti si distinguevano solo per il colore cerchi orizzontali di colore era tutto quel che vedeva era stato preso in un vortice e avanzava roteando a una tale velocità da far divenire il capogiro e la nausea pochi attimi dopo fu scagliato sulla ghiaia ai piedi della riva sinistra la riva meridionale dietro una sporgenza che lo nascondeva ai suoi nemici per restarsi improvviso del movimento l'abrasione che si era procurato a una mano strusciando sulla ghiaia lo riconfortarono ed egli pianse dalla gioia affondò le dita nella sabbia se la zettò addosso a manciate e la benedisse a voce alta erano diamanti rubini smeraldi non riusciva a pensare a niente di bello a cui non somigliasse gli alberi sulla riva erano piante ornamentali giganti notò che erano disposte secondo un ordine aspirò la fragranza dei fiori una strana luce rosata plendeva negli spazi tra i tronchi il vento intonava tra i rami la musica delle arpe eoliche non desiderava portare a termine la fuga si accontentava di rimanere in quel luogo incantato fino a quando lo avrebbero ripreso il sibilo e il crepitio della metraglia tra i rami sopra il suo capo lo ridestarono dal sogno il cannoniere beffato aveva sparato a casaccio una raffica d'addio balzò in piedi salì a gran velocità sulla riva e si immerse nella foresta camminò tutto il giorno orientandosi sul corso del sole la foresta sembrava interminabile da nessuna parte gli riuscì di scoprire una via d'uscita neppure un sentiero da boscaioli non si era mai reso conto di vivere in una regione così selvaggia la rivelazione aveva qualcosa di inquietante al calare delle tenebre era stanco aveva le piaghe ai piedi ed era affamato il pensiero della moglie e dei figli lo spinse a proseguire infine trovò una strada che lo guidò verso quella che sapeva essere la giusta direzione era larga e dritta come una strada di città eppure sembrava non battuta non era fiancheggiata da campi da nessuna parte si vedevano case neppure la baiare di un cane che suggerisse l'insediamento umano le masse nere degli alberi formavano da entrambi i lati delle pareti verticali convergenti in un punto all'orizzonte come un diagramma e in una lezione di prospettiva guardando in alto da quella fenditura nel bosco vide risplendere grandi stelle dorate dall'aspetto insolito raggruppate in strane costellazioni era certo che fossero disposte secondo un ordine dal significato oscuro e maligno da entrambe le parti il bosco eccheggiava di rumori bizzarri tra cui una volta due volte poi ancora e gli udì distintamente dei bisbigli in una lingua sconosciuta il collo gli doleva alzando la mano per toccarlo lo sentì orribilmente gonfio sapeva che era cerchiato di nero là dove la corda lo aveva stretto coprendolo di lividi sentiva gli occhi congestionati non riusciva più a chiuderli aveva la lingua gonfia dalla sete alleviò la sua febbre cacciandola fuori tra i denti all'aria fresca come era soffice il tappeto erboso che aveva ricoperto la via non battuta non riusciva più a sentire la strada sotto i piedi senza dubbio nonostante il dolore si deve essere addormentato camminando perché ora vede un'altra scena forse è solo ripreso da un delirio è al cancello di casa sua tutto è come lo ha lasciato luminoso e magnifico del sole del mattino deve aver camminato per tutta la notte appena spalanca il cancello e si avvia per il grande viale bianco vede uno svolazzare di abiti femminili la moglie dall'aspetto giovane fresco dolce scende dalla veranda per andargli incontro rimane in attesa in fondo alle scale con un sorriso di gioia ineffabile un atteggiamento di impareggiabile grazia e dignità ah com'è bella si precipita in avanti e abbraccia a spalancate mentre sta per stringerla a sé sente alla nuca un'esplosione assordante una luce bianca accecante avvamba tutto intorno a lui con il rumore di un colpo di cannone poi tutto è oscurità e silenzio Patton Ferker era morto il suo corpo con il collo spezzato oscillava gentilmente da una parte all'altra sotto le travi del ponte di Hall Creek ulire di Halluz per un'esplosione Grazie a tutti